Vuoi parlare del Napoli? No, ma Coulibaly è un simbolo del Napoli e lui se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Coulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque. A voi vi risulta che io abbia obbligato mai nessuno pur avendo anni di costratti in più quando volevo andare via, di restare. No, mai. L'unico forse che ho obbligato sapete chi è? E che saluto perché è un caro amico, Mazzarri. Walter Mazzarri a un certo punto dopo due anni mi disse, presidente io voglio andare via. No, tu qua devi rimanere. E lui però, devo dire, molto opportunamente e rispettosamente del contratto che aveva è rimasto e devo dire che ci ha regalato anche quattro anni di soddisfazione.